Ciao a tutti! In mezzo a tante wellness coach a pagamento, visto che la professione è del momento, io vi do un consiglio gratis. Mai fossilizzarsi sul passato, a meno di non essere uno stoico di professione. Mai avere paura del futuro, perché diventerebbe un altissimo impervio muro. Vivi nel presente, concentrati sul presente, solo lui non mente. Rimuginare sul passato è sbagliato e già mentre lo dico, appunto, è già passato e diventa un boato. Ciao a tutti e bacio 8, anzi bacio 9. Ciao!